Salve carissimi amici, tutto bello e bentornati nella soffita di Camermia. Quest'oggi parliamo di Hut numero 3, Corrado Roy ha i disegni a ideare la serie, Paola Barbato ha i testi di questo terzo capitolo, ma così come dei primi due. Una serie che graficamente risulta molto 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 bella, graficamente devo dire che più va avanti e più mi sta piacendo, che rivede la partecipazione del gatto dei primi due numeri, quindi con un ruolo ancora più chiave, e che vi avevo detto che il primo numero non mi era piaciuto, che probabilmente non avrei continuato la serie dopo aver letto solo quel numero, il fatto che in casa c'è mio fratello che graficamente gli piaceva, ha detto no, vai come tiriamo, il secondo e terzo numero mi sono piaciuto un pochettino di più. Questo terzo numero in particolare non dico che mi ha convinto a continuare la serie, però devo dire che tra i tre è quello che mi è piaciuto decisamente di più, forse perché sto entrando un pochettino di più nelle dinamiche e quindi vedrò di recuperare o meglio di rileggere i primi numeri che magari li avevo decisamente sottovalutati o li avevo presi come lettura troppo più leggera di quello che poi doveva essere. In questo terzo numero infatti abbiamo una celebrazione del pensiero umano, della filosofia, del ragionamento che ci sta dietro, e con ancora la ricerca da parte di Iranon delle case, questa struttura in cui lui sarebbe nato dotata di determinate capacità e particolarità che non mi sono ben chiare, nel senso che comunque non è stato ancora spiegato molto bene tutto, in quanto si vuole lasciare probabilmente un colpo di scena nel finale, che però spero sia qualcosa di concreto e sostenuto perché sennò la serie mi lascerebbe parecchio desiderare. Un terzo numero che devo dire mi è piaciuto, me l'ho letto veramente con piacere tutto in una sola volta e che quindi non mi sento di consigliarlo come albo singolo, ma che chi ha apprezzato i primi due numeri o che magari dubitava se continuare o meno, questo terzo numero in realtà a me mi ha dato parecchie impressioni positive. Da vedere come la storia continuerà, come gli autori vogliono improntare la seconda parte di Uth andando con la fase finale dell'albo. Il prossimo albo si intitolerà infatti Gli uomini se ne vanno, gli arrabbiati restano, con una bella bella copertina, mi piace parecchio, con due protagonisti della vicenda e non più il solo Uth. Questo numero è intitolato Le vie dei pensieri, proprio perché ci troviamo in un contesto dove la filosofia e il ragionamento la fanno da padrona e niente, non mi sento di dire altro, aspetto di continuare di leggere gli altri tre numeri, non so se farò un video 4 su Uth, sul quarto numero, anche perché sono delle esperienze in realtà ma man mano che lo sto leggendo sto capendo che è un'esperienza che bisogna fare personalmente e che può avvincerti come no, ma che albo per albo secondo me è veramente difficile dirne qualcosa di più. Quindi penso che farò una video opinione una volta terminata la miniserie, una volta che avrò effettivamente riletto tutti i sei numeri, per poterne dare un giudizio complessivo e spiegarvi forse un pochettino meglio la trama di più rispetto a quanto farei, parlandovi di un quarto numero dove probabilmente ci sarebbe molto poco da dire perché anche se sono 96 pagine, molto è impressione, molte sono sensazioni e quindi è difficile fare un video sulle sensazioni. Detto questo, ci vediamo al prossimo video del canale.